Anche tu stai pensando di migliorare il tuo sorriso con l'utilizzo degli allineatori invisibili? Sono il dottor Simone Stoi di Microdent e se hai questa necessità, volevo un attimo tranquillizzarti. Sicuramente anche tu magari hai dei dubbi su quello che sarà il risultato finale, perché facciamo comunque un trattamento estetico ed è giusto sapere prima come sarà il tuo nuovo sorriso alla fine. Non c'è bisogno in nessun modo di immaginare il nuovo sorriso, ma come vedi, dopo aver fatto una semplicissima scansione, sarà possibile simularlo. Questa è una simulazione reale di quello che potrebbe essere il tuo nuovo sorriso alla fine del trattamento. Vedrai tutti i movimenti, la tempistica necessaria e ti potrai togliere quindi ogni dubbio ed essere convinto del trattamento. Voglio farti una domanda. Ti sei accorto che anch'io lo sto portando? Quindi, se vuoi sapere di più, ti invito a cliccare qua sotto e ci vediamo in studio.